Un Jack Russell dilaniato da due Amstaff mentre la proprietaria cercava di salvarlo e veniva aggredita a sua volta. E' accaduto tutto in pieno centro a Chieti una settimana fa. Marilena andava a fare i soliti acquisti intorno alle 8 di mattina e passava per la consueta strada che percorreva tutte le mattine via Cutelli in zona Filippone. In pochi secondi ha vissuto un incubo. Purtroppo rivivo costantemente quei momenti drammatici, rivivo le immagini, risento i rumori, risento gli odori, risento le grida, risavivo l'impotenza, la mia volontà di salvare e non riuscirci. Un attacco cosiddetto a Tenaglia da parte dei due cani di grossa taglia che nonostante i suoi tentativi le hanno sbranato il Jack Russell Margot che era il guinzaglio. A nulla è servito prendere in mano Margot perché i due Amstaff le hanno strappato alcune dita per sottrarle la cagnetta e dilagnarla. Inutile raccontare l'efferatezza e lo shock di quei momenti. Io ho cercato di difenderla così come avrei difeso i miei figli, così come avrei difeso qualsiasi componente della mia famiglia. Purtroppo lei ci ha rimesso la vita, io ho delle ferite che guariranno, quelle del corpo guariscono, quelle dell'anima ci metteranno tempo. Nessuno potrà restituire a Marilena la piccola Margot che era un cane abituato a relazionarsi anche con i pitbull. Ma gli animali vanno educati e rieducati, bisogna intervenire a monte. Il primo passo è essere consapevoli prima di scegliere un cane. Indipendentemente dalla razza credo che ogni cane debba seguire un percorso educativo in cui si vada a valorizzare quello che è il cane in quel momento e a portarlo ad essere il più prosociale possibile. Con questi cani che hanno una potenza fisica importante, che hanno delle caratteristiche di razza importanti, che poco si sposano con il quotidiano, cioè con quello che vorremmo farli vivere a questi cani, ancora di più dobbiamo socializzarli e intraprendere un percorso educativo. Con un percorso educativo non intendo una serie di esercizi e di comandi, ma proprio di intervenire su quella che è la loro caratteristica di base, cercando di non aumentarne il volume, quindi non metto un cane in giardino ad affare la guardia tutto il giorno se voglio che poi non sia un guardiano. E se voglio che sia un guardiano deve essere tenuto bene, i cancelli devono essere sempre chiusi e io non posso, io proprietario, abbassare la guardia. Più controlli e un'adeguata riabilitazione dovrebbero esercitare dunque i proprietari di quei cani che possono diventare pericolosi. E si è posto di nuovo il problema per l'incolumità dei cittadini. E la cosa che mi terrorizza e mi devasta è pensare che tutti i giorni quella strada era percorsa dai miei figli di 13 e di 10 anni con Margol Guinsaglio. Se fosse successo a loro, adesso io piangerei una tragedia nella tragedia.